Carissima mamma, mi trovo qui a Reggioro, in attesa di essere giudicato con le relative conseguenze. Fatti coraggio che, se la giustizia degli uomini sarà come quella di Dio, vedrai, non mi sarà attribuito nessun male di quello che non ho fatto. Sono ancora qui con Ferrari, che pure lui saluta tanto i suoi cari. Carissimi, non piangetemi, sono morto per la mia idea, senza però fare nulla di male alle cose e agli uomini. Non odio nessuno e non ho rancori, serve per nessuno. Ci vedremo in cielo, a noi, e viva l'Italia.